Il 27 maggio è un'iniziativa importante per ricordare Monsignor Domenico De Gregorio. Come ogni anno l'Ufficio Cultura e l'Arcidiocesi si organizza per commemorare questo illustre nostro storico di Occesi di Agrigento ma anche di tutta la città di Agrigento. Quest'anno abbiamo scelto un argomento che non è letteralmente legato a Monsignor De Gregorio perché è uno storico, un argomento di tipo antropologico, culturale legato più che altro all'anno della fede. Una tavola rotonda sul tema maschio e femmina li creò. Qual è il senso di questo momento di dibattito? Sì, come dicevo è legato questo argomento all'anno della fede. Ci rapportiamo alle parole di Benedetto XVI quando ancora era Papa, il quale disse che il compito di ogni cristiano non è solamente quello di annunziare la salvezza in Cristo Gesù ma anche di difendere l'uomo, l'umanità. Perché purtroppo noi sappiamo che l'uomo può autodistruggersi. Questo avviene naturalmente non solamente nelle scelte in campo politico o in campo ecologico, perché vediamo quello che significa la distruzione della natura, per cui l'uomo veramente ha la capacità di autodistruggersi, ma anche nell'ambito dell'antropologia. Ecco, maschio e femmina li creò, questo è il titolo dell'incontro, letture antropologiche. Vogliamo indagare sull'identità sessuale dell'uomo, inteso non uomo in quanto Adamo, ma dell'uomo in quanto maschio e femmina. E tutto questo naturalmente ci porterà ad esaminare l'identità sessuale nella società attuale, l'identità sessuale così come è stata rappresentata dalla letteratura e daremo anche una lettura di tipo filosofico-teologica sull'identità sessuale. Sono provisti diversi interventi e qualificati interventi. Ecco, queste relazioni saranno affidate alle persone che ovviamente conoscono bene la materia. Sì, ci sarà una sociologa, ci sarà un docente di letteratura e una professoressa di filosofia della Facoltà Teologica di Sicilia. E inoltre avremo la professoressa Lia Rocco che ha scelto dei brani appositi che ci fanno riflettere naturalmente, anche lì leggerà con la sua capacità di saper presentare questi temi e di sapere entrare anche nell'argomento con il suo pathos e con la sua enfasi. Un momento da non perdere. Ricordiamo allora il giorno e dove si svolgerà. Sì, la sede, questa è molto importante, è molto prestigiosa, è la Biblioteca della Lucchesiana. Monsignor De Gregorio è stato direttore della Biblioteca Lucchesiana per moltissimi anni, ha scritto sulla Lucchesiana, sul restauro, sul recupero di questa importante biblioteca. Io invito tutti a partecipare. Sarà lunedì prossimo alle ore 18, 27 di maggio. Quindi il Monsignor De Gregorio è morto il 26 maggio, ma siccome è domenica è impossibile quest'anno cogliere l'anniversario. Capirà. Senz'altro, grazie.